ciao raga bentornati sul mio canale youtube secondo episodio come potete vedere alla mia destra in compagnia di juon salve ragazzi raga dopo aver trattato l'altra volta come sfruttare la web app episodio che vi è piaciuto veramente tanto abbiamo pensato di riproporre la coppia che scoppia stavolta per andare a vedere invece come sfruttare al meglio le 10 ore di iei play e come andare a sfruttare poi 4.600 fifa points che avremo nel momento in cui abbiamo prenotato la versione ultimate rispondo anche a un commento che mi avevate fatto sotto un video che anche qualora andaste a prenotare ora l'ultimate quindi a qualche giorno prima dell'uscita i fifa points li prendete uguale quindi potete tranquillamente procedere nel giorno 30 esatto senza john perderci in chiacchiere io procederei subito con il primo tema ossia partendo dall'iei play proprio ne andando nello specifico secondo te come consigli di andare a insomma utilizzare queste queste 10 ore sì sicuramente è una delle parti più importanti anche perché chi è ps5 o comunque xbox serie insomma serie next gen si dice perché non c'è più ancora conferma al 100% che avrà la possibilità di raddoppiare questa montata delle 10 ore giocare addirittura 20 ore switch andre semplicemente dal menu a start insomma sul gioco switch and la versione quindi ps5 ps4 e anche su xbox lo confermeremo questo lo sapremo per certo solo quando avremo il gioco sotto mano e qualcuno ha fatto già dei test ma insomma le 10 ore sono fondamentali perché ci danno il primo ingresso nel gioco cioè finora siamo abbiamo fatto ragionamenti su quello che è stata la web app quindi primo approccio ma poi sappiamo che fifa è un gioco di calcio bisogna giocare quindi come andarle a sfruttare dobbiamo capire che insomma il contatore volerà veloce cioè il tempo sarà tiranno anche se ne avremo 20 di ore e quindi dovremo ottimizzare benissimo tutto il tempo che ci dà il gioco a disposizione facendo semplicemente nel gioco tutto quello che solo nel gioco possiamo fare tutto invece quello che si può gestire tramite la web app e quindi il mercato ma anche la gestione delle rose le sbc i pacchetti e poi ne parleremo nella seconda fase fase di questo diciamo appuntamento tutto quello che si può gestire dalla web app lo gestiremo da lì proprio per non scalare tempo prezioso no e quindi io credo che chiunque accederà al gioco vorrà giocare si troverà davanti secondo me già le due le due modalità che sono un po quelle starter che con le quali ci iniziamo a confrontare nel nell'online e nell'offline ovvero battle per l'offline e dra e draft barra rivals perché insomma saranno entrambi disponibili per l'online io consiglio poi questo è sicuramente qua il mio amico vi potrà consigliare lato gameplay meglio di me di giocare entrambe anche per prendere un po' di dimestichezza no che dice con le due con le due modalità perché ovviamente hanno stili di gioco diversi giocabilità diverse anche per portare avanti un po quello che è il discorso del punteggio settimanale anche perché ancora non sappiamo i premi quando verranno distribuiti la chiusura settimanale quando ci saranno delle competizioni e poi quest'anno le rivals come ben sai c'è sta il competitivo c'è la l'obbligo di giocarle settimana per settimana perché bisogna qualificarsi poi in quelle ogni settimana quindi sarà importante sin da subito capire i meccanismi di gameplay si anche perché poi soprattutto se dovessero mantenere lo schema diciamo degli altri anni facendoci due calcoli gli e play dovrebbe uscire di mercoledì quindi giovedì già ci sarebbe la possibilità magari di prendere qualche premio delle rivals che sappiamo bene all'inizio da tanto sì sì mentre ancora non sappiamo la data ufficiale della della web app il 22 comunque diciamo per tutti quelle che comunque guarderanno questo il 22 ufficiale lì a play quindi il 22 mi pare che addirittura oggi era stato ufficializzato l'orario dovrebbero essere le 16 ore britannica ci sarà affluenza ci sarà problemi di connettività questo lo sappiamo già però insomma dal pomeriggio in realtà si dovrebbe riuscire ad accedere si poi è fondamentale dicevi tu come primo accesso in gioco anche perché comunque se si hanno dei fifa points è il momento in cui te li fa trasferire dal titolo precedente no proprio per evitare l'ingorgo dei server tante persone che vogliono utilizzare fifa points le caricano sulla versione della ps4 della ps5 di fifa 21 per poi ritrovarseli subito e appunto poi utilizzarli per andare a spacchettare proprio da web app per non scaricare il tempo tempo che tra l'altro ricordiamo è fondamentale tenere sotto controllo perché nel momento in cui voi avviate l'applicazione già state scalando tempo quindi non dovete per forza giocare ma nel momento in cui lanciate l'applicazione state perdendo le dieci ore è un altro modo esatto per essere sicuri è fondamentale chiudere per bene l'applicazione quando avete finito perché se lasciate l'app in background è capace che voi non vuoi anche se avete spento la console vi sta scalando il tempo e vi siete giocati le vostre belle dieci ore ma nello scout logout fuori dal alti metti insomma dalla tab di alti metti uscite poi dal gioco chiudete il gioco fifa non bisogna solo uscire dal da foot ma bisogna terminare l'applicazione sulla console così avete subito l'accesso pronto dalla dalla web app per passare insomma in modalità web app e lì vi ricordo che il conteggio delle ore non hanno una influenza potete starci anche h24 e gestire da lì proprio dalla web app gestire da lì quelli che sono gli obiettivi lsbc perché all'inizio insomma sarà importante avere sotto controllo anche la tab degli obiettivi e la tab delle sfide creazione rosa le sfide creazione rosa ovviamente le non le faremo sulla sulla console di gioco proprio per non bruciare ore le faremo sulla sulla web app e gli obiettivi perché sono importanti perché proprio allo start nella insomma quella che ecco mi ha buttato fuori sperando da noi ci dovessero essere questi problemi questo diciamo stiamo simulando una bella versione che lei è la rivolta esatto e il day one questa cosa succederà sono con il suo dispositivo in effetti la tab degli obiettivi dove ovviamente se vuoi la facciamo vedere direttamente dalla console anche possa si passiamo tanto è la stessa che trovate sulla console è importante capire quali obiettivi fare ragazzi e ve li studierete in ambiente web app perciò ci volevo andare direttamente alla web app avevo dimenticato di aver aperto già dal gioco perché studiandosi prima sapere prima quello che bisogna fare vi dai poi la possibilità di andare in gioco e andare direttamente a giocare le rivals in un determinato modo con una determinata squadra fare l'obiettivo con il giocatore che vi serve per segnare sbloccare tot cose perché nei progressi stagione all'inizio troveremo bonus crediti pacchetti qualche giocatore in prestito una serie di cose contenuti che allo start da poveri diciamo così ci fanno assolutamente sì e poi soprattutto proprio per rimpolpare quello che il discorso delle cose che ci tornano utile è fondamentale giocare tanto soprattutto i primi due giorni per fare un po di gap con quelli che o stanno giocando meno o con proprio non stanno giocando quindi se diciamo possiamo dire fare un 23 ore i primi due giorni e poi gestire il rimanente insomma fino al 27 cercare di tirare con un'oretta al giorno anche se è difficile io mi sparerei le 10 ore tutto il primo giorno volentieri io andrei un po più sul soft perché finché non abbiamo la certezza che ne sono 20 magari chi è sulla console sulla next gen e poi ovviamente doppio budget così da poter spendere andrei un po più sul soft proprio per evitare cosa di rimanere poi senza ore al terzo quarto giorno di a play prima che si arriva al 27 e magari esce un obiettivo nuovo esce qualcosa di nuovo che bisogna insomma andare a completare dal gioco bruciarsi tutto nelle prime nel primo giorno nei primi due giorni poi ci impedisce di accedere ovviamente se invece ci abbiamo 20 ore insomma un po più di gestibilità sapendo che poi si può switchare con su sì quelle 20 ore magari 10 ore addizionali su un old gen io magari le sfrutterei più per le squad battles visto che giochi praticamente un gameplay che è diverso per un buon 40 50 per cento rispetto alla new gen e comunque ti vai a caricare dei premi che ti tornano ti tornano parecchio utile e a tal proposito proprio per completare il quadro tutto questo poi va a contribuire al discorso relativo ai 4600 fifa points perché tutto quello che abbiamo fatto prima quindi e play web app eccetera eccetera ci porta a poter scegliere come spendere i 4600 fifa points del pre order nella maniera più giusta no esattamente perché è un budget diciamo che insomma quest'anno 10 regala fra virgolette non abbiamo mai avuto come bonus e non sono pochi è se posso dire non sono pochi infatti è un regalone ecco qui a schermo abbiamo già il valore in euro no di quanto pesano sti 4.600 fifa points 40 euro su una versione che comunque tra sconti agli ottanea viene a fare 80 50 la metà esattamente e soprattutto perché sono importanti rispetto magari ai pacchetti che ci dava qualcuno potrebbe dire beh ieri l'anno scorso ci dava i pacchetti quelli del lunedì ti ricordi i due pacchetti marci a settimana ecco è totalmente diverso il tipo di supporto e tipo di regalo in questo caso perché 4600 fifa points sono spendibili tutti subito c'è un impatto veramente forte che poi si rivelerà veramente forte sul mercato tanta gente secondo me quest'anno opterà per la versione alti test è saltata anche la versione champions quindi c'è proprio una volontà di spingere la community a comprare una versione che è troppo più vantaggiosa rispetto a quella standard che comunque la standard qualcosina da ma a conti fatti sti 40 euro in fifa points pesano veramente tanto assolutamente sì e tra l'altro ci sono due modi no per andarceli a spendere sti fifa points quindi o aprire pacchetti e gestire invece quello che può essere un draft sia online che offline quindi per i pacchetti tu che ne pensi sui draft magari consiglio io qualcosina sì lascio sicuramente la parte gameplay alla tua esperienza anche perché io i draft li odio quindi ne ho tre gettoni e non li ho ancora riscattati fifa points dal mio punto di vista spendibili sicuramente in pacchi abbiamo fatto anche una stima dei due pacchetti che ci saranno allo start probabilmente pacchetto da 7 5 pacchetto da 5k senza anteprima sull'anteprima non sappiamo ancora nulla però a mio avviso se siete bravi nella compravendita e comunque arrivate al day one 27 dopo aver fatto un percorso buono durante le 10 ore barra 20 con tutti gli strumenti della web app l'unica cosa che vi può dare una spinta enorme in più è una sculata cioè puntare a trovare qualcosina perché con i pacchetti euro premium da 7 5 magari si apre meno valore come termini di scarto e come carte in totale perché nei pacchetti da 5 mila ovviamente costando 100 100 fifa points se ne aprono di più ma si beccano meno carte speciali facendo una somma su due pacchetti da 7 5 che sono 300 fifa points si beccano 6 carte speciali aprendo invece tre pacchetti da 5 mila che sono sempre 300 fifa poi si beccano tre carte speciali possono non essere giocatori ovviamente possono essere contratti possono essere consumabili allenatori però la possibilità di trovare qualche carta speciale di valore c'è un po di più ovviamente numericamente in questa tipologia di pacchetti quindi vi consiglio di aprire questi se siete messi già bene con un club avviato con una buona compra quindi avete fatto un buon percorso perché poi dall'in poi solo una sculata vi può insomma stravolgere quello che è lo start dell'anno con i draft invece se siete tra l'altro aggiungo una parentesi poi estremamente preparati sulla web app avete fatto ottima compra vendita vi sentite molto fortunati e a sto punto potete aspettare anche il primo ottobre per cercare di trovare magari one to watch c'è questa parente perché quest'anno i want to watch già sappiamo ci sarà ronaldo arriveranno altri una finestra di mercato clamorosa dei want to watch pesante ci saranno se vi sentite la mano calda insomma potete aspettare qualche giorno in più si è proprio questo si allaccia anche al discorso dei draft che comunque vi danno la possibilità inizialmente di poter accedere a dei pacchetti che invece non trovate sul mercato perché voi andate a fare un draft online con 300 points o 15 mila crediti vi andate a fare un draft offline con 150 few points se riuscite ad arrivare già in semifinale e non dico arrivare per forza a vincere il draft diventa molto vantaggiosa la cosa perché voi praticamente al prezzo di due pacchetti da 150 few points vi siete portati a casa sicuramente un valore molto più elevato il mio consiglio è quello di inizialmente valutare un attimo quelle che sono le vostre abilità insomma perché se siete comunque dei giocatori che siete abituati a fare i draft in weekend league comunque negli anni passati avete fatto dei buoni risultati per me già a partire da loro uno eccetera eccetera e quindi magari avete anche già avuto modo di avere un primo approccio col gioco e vi piace buttatevi nei draft perché le prime due partite nonostante all'inizio è vero che saranno belli popolati da try harder non indifferenti però comunque diciamo che le prime due sono abbastanza fattibili e vincibili quindi questo vi dà sicuramente un boost da non sottovalutare il discorso relativo al draft offline perché lì è come se fosse una squad battles voi vi andate a selezionare la difficoltà ed è vero che comunque il premio è proporzionale a quello che è la modalità però se mettete ad esempio una difficoltà che vada esperto a superiore se comunque riuscite a vincere il draft i premi sono sempre più vantaggiosi perché comunque al prezzo di un pacchetto da 150 via points vi portate a casa sicuramente qualcosina in più quindi fate una bella valutazione di quelle che sono le vostre abilità di gioco e scegliete da non sottovalutare anche il fatto che comunque giocando ai draft se siete comunque delle persone che vogliono subito partire a mille sul gioco insomma voi non vuoi vi ritrovate anche a studiare quelle che sono le le nuove meccaniche da subito e quindi unite l'utile al dilettevole e fate due cose insieme quindi il discorso draft secondo me è da non sottovalutare assolutamente così come da non sottovalutare anche l'apertura dei pack qualora si voglia andare a massimizzare esatto noi abbiamo preso i due estremi abbiamo considerato o apertura paccia si può fare anche tutte e due ovviamente se sonda un po il terreno nei draft ci si rende conto che comunque bene o male si riesce il gioco piace insomma si riesce ad esprimere un buon un buon calcio diciamo così si porta a casa qualche vittoria quindi continuate una piccola parentesi solo sulla lato draft rispetto ai pacchetti impiega più tempo non siamo più nelle dieci ore ovviamente quindi non dobbiamo correre siamo abbiamo tempo illimitato siamo dalla ultimate dal 27 in poi è un tempo che comunque chi è un trial della compravendita come il sottoscritto magari investito direttamente sulla web app riesce a fare un gruzzoletto di credit in più cioè sapendo che comunque ho dei limiti io come tanti altri magari che ci sono nel fare tanti draft se ne prova qualcuno poi in termini orari si impegna troppo tempo in quello che spacchetta il draft componi la rosa vai a giocare magari in quell'ora e mezza di draft io riesco a fare sulla web app per due e quindi preferirei insomma nel punto di vista compravendita insomma a spenderli come termini di tempo sulla sulla web app però io però molto probabilmente qualche draft qualche possibilità gliela darò poi mi arrenderò ci sta dai così almeno vedi pure quello che ti aspetta per tutto l'anno no ma è così ma renda proprio definitivamente ma tra l'altro da trader invece tu sei tra virgolette preoccupato da questa immissione così di fifa points nelle mani di tutti o invece li reputi una risorsa e basta non sono affatto preoccupata anzi questa è una grande opportunità perché chi legge bene il mercato quando ci sono queste opportunità c'è queste tipologie di immissione comunque queste movimentazioni sono sempre delle opportunità l'utente inesperto che cosa farà butterà sul mercato quello che trova gestire 4.600 fifa points magari rispetto a chi non li ha mai gestiti non ha mai aperto pacchetti sarà una novità sarà insomma spaesato butterà sul mercato anche perché poi a inizio gioco è difficile capire il reale valore delle carte quindi soprattutto nelle prime fasi ci sarà veramente un'immissione pazzesca di carte anche a prezzi vantaggiosi è importante arrivare con una buona base di crediti al 27 per fare spesa nelle prime ore e poi che cosa succederà chi ovviamente ha venduto le carte sia essa una carta svenduta o una carta diciamo ottimizzata come come prezzo si ritrova con un budget allora che cosa fa se va a rifare la squadra e da lì in poi fino molto probabilmente a quella che sarà la prima vl del giorno 8 vedremo un trend di risalita quindi se siete molto bravi a sfruttare l'arco di immissione sul mercato potete poi rivendere quelle carte che avete acquistato da chi le lanciava e rivendere dopo qualche oretto un paio di giorni a prezzo molto più alti è un'opportunità infatti era molto più pericoloso il fatto che l'anno scorso le rivals regalavano 125 mila crediti che quindi quello era un potere economico che la gente utilizzava semplicemente per togliere dal mercato quindi se ci sono meno oggetti il prezzo degli altri si alza rispetto a quello dei fifa points che ti danno la possibilità di trovare carte che invece andando sul mercato svalutano le stesse no perché c'è prima una fase di immissione prima di avere quella ricchezza magari poi ci si arriva pure a 120 mila ma prima di arrivarci bisogna monetizzare quindi c'è un'immissione l'anno scorso c'era direttamente una insomma una fase di acquisto quindi impoverimento del numero di carte dal mercato non era proprio impoverimento e basta e c'era comunque chi accedeva e quei fifa points li caricava con la tasca ma questa fase potrebbe comunque esserci anche quest'anno perché che cosa succede se io apro i 4.600 fifa points e sono comunque abituato a spendere non trovo nulla comunque poi il centello ce lo vado a spendere quindi non facciamoci comunque insomma abbindorare dal fatto che i 4.600 fifa points sarà l'unico valore che verrà immesso sul mercato chi è abituato a spendere spenderà come certo infatti è sempre così no è quello che fa di tempo la modalità essi e la modalità principe quindi niente raga anche per oggi credo che abbiamo insomma trattato due temi belli belli massicci nella maniera più completa possibile quindi abbiamo concluso diciamo quella è la bibbia per iniziare al meglio al meglio foot io ringrazio john per essere stato compagno di questa mini rubrica diciamo come al solito vi rinnovo tutti quanti i link in descrizione sia miei che suoi per le live giornaliere sulla piattaforma viola dove arriveranno tanti contenuti anche durante l'anno insieme perché insomma abbiamo intenzione di bombardarvi per bene quindi raga da noi è tutto un salutone da parte mia vi saluta pure il buon john e nulla raga ciao ragazzi alla prossima ciao ciao